Sì, è già detto tutto, per noi era molto importante fare una gara di questo tipo, con sacrificio, con coraggio, con determinazione, con saperezza, ma siamo orgogliosi di come è data stasera. Possiamo parlare di Juve da scudetto adesso? No, no, possiamo parlare di una Juve che ha fatto una gran partita, che si deve godere questa splendida vittoria, che ha tanto lavoro ancora da fare perché siamo ancora sotto il Milan pur avendolo battuto. E come hai visto appunto questo Milan questa sera? Ho visto bene, la partita come era prevedibile era da 1x2, insomma noi siamo stati bravi, concreti, ma loro hanno avuto occasione anche loro, credo che sia stata una bella partita.